C'è un giocatore che piace molto a Gattuso e potrebbe venire nel Milan già a gennaio. È un giocatore spagnolo, è un giocatore nato nel 1994 a 24 anni, alto 1,80, un giocatore che il suo nome è Fernandes Denis Suárez. È un giocatore nato nel giovanile del Celta Vigo, passato a 17 anni al Manchester City, dove debutta nella League Cup, giovanissimo. È eletto nel 2012 il miglior giovane del campionato inglese. Poi passa al Barcellona nel 2013, ma rimane nella squadra B, dove sforna in 36 partite 12 assist, realizzando 7 reti. Lo vuole il Sevilla, in uno scambio nell'affare Rakitic, vince con il Sevilla l'Europa League, lo prende il Villareal per 4 milioni, ma il Barcellona nel 2016 esercita il diritto di riacquisto, quello che si dice il diritto di recompra. Denis Suárez, quali sono le sue caratteristiche? È un giocatore ideale per una squadra che gioca a tre, perché può giocare a destra o a sinistra nel tridente avanzato, veloce nel dribbling, grande visione di gioco, bravissimo a, come abbiamo detto, a regalare assist ai compagni, ma può giocare anche da trequartista. Quindi un giocatore agile nei movimenti, un giocatore che proprio ricorda sia Suso che Castiglieco, ma un giocatore che può anche giocare da trequartista e potrebbe essere un ulteriore rinforzo per l'attacco rosso-nero. Quindi un giocatore che il Milan sta già guardando con interesse, nel Barcellona è chiuso dai grandi campioni che giocano titolari nella squadra catalana, e quindi vi ho dato il primo nome concreto per il mercato di gennaio. Certo un mercato che potrebbe regalare giocatori importanti come Paredes dello Zenit di San Pietroburgo, ma queste sono solo voci. Invece un interesse per Fernandes, Denis Suarez, il Milan ce l'ha ed è concreto.